Buon salve amici, io sono Leo e benvenuti sul canale Tato DJ Oggi primo video di Fortnite Si apre questa rubrica e quindi fuoco alle pompe Colleghiamoci subito con il gioco Eccoci qui, siamo qui, è ora del balletto, sentite Pam pam Eccoci qui, vediamo anche quest'altro balletto Ok, adesso faccio questo 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 Allora Ok Facciamo iniziare la partita Dai, 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 come funge la sita Come funge la sita Ecco, ecco, ecco Mi abbasso solo un pochino Ok Top Tanto che qui si vede Andiamo a vedere se ci sono degli amici Online Markowitz Online Markowitz online Esci Allora Dai, 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 dai Sono carico 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 Carichissimo Ho già fatto un po' di partite Infatti, grazie a questo Questo ball Non questo Questo balletto l'ho ricevuto perché ho fatto una vittoria reale con la corona E mi ha dato questo bellissimo Balletto Rocket Pass Rocket Pass Rocket Pass Come è? L2 L2 Visualizza giochi Allora, inizio, 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 inizio Pronti Dai, 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 dai Allora, eccoci qui sul gioco Prendiamo Raccogli Andiamo ad allenarci Meno male che non ho messo zero costruzioni Anche se mi piacciono un sacco Zero costruzioni E ora qui sto giocando da solo Via, via, via Pam, 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 pam Pam, pam Dai, 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 dai Porca, raga Oh C'hai con me? Anch'io, eh Ti faccio così No, anzi, io faccio così Pam, 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 pam E ho sparata Ecco Questo è il pullman che sta per partire Allora Marchwitz Che mi ha invitato al gruppo Ma adesso io non lo accetto Perché sto facendo un video Ovviamente Allora Andiamo Io vado Metto Il ping Pingo qui Ping dai, 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 dai Pronti Siamo sopra il piazza in Cudine Siamo sopra il mio ping Quindi Tutta velocità Dai Eccoci Eccoci Allora Siamo arrivati al ping Adesso andiamo a cercare un posto bello Per poi andare a prendere la spada Laser Dai raga Dai ragazzi Amici di Youtube Dai Salto, salto, salto Forza raga Dai raga Sono gasato Sono gasatissimo Vai Allora Allora Devo andarmi A cercare Dai, dai, dai Mizzega Siamo rimasti Siamo rimasti in 97 Salutiamo Marciwitz Ragazzi di Youtube Salutate Marco Sei in diretta Su Youtube Cioè Non sei in diretta Sei solo In un video Su Allora No, no, no Dai Oh miseria Dai ragazzi Dove ci sono delle armi Ho bisogno di armi Marco Abbandonato Ecco dai Ping Pingo Ok Ping Eccola Corri 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 Dai Veloce Veloce Dai Raga Siamo quasi arrivati Non siamo più Quasi arrivati Mamma mia Scappo 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 No Mamma mia Oh Cappero Cappero Miseria Andiamo giù Andiamo giù Andiamo giù Andiamo giù Ok Ok Dai Andiamo avanti Che siamo quasi arrivati alla spada Dai Andiamo Sott'acqua Siamo vicino alla mega city Mega city E adesso Eccola Salve a te Obi-Wan Kenobi Ok Che la forza Sia con Te Andiamo a prendere La spada laser Spada laser Dai Dov'è? Quello scemo Oh Tu hai provato A eliminarmi? Oh Sai Signore Capita E via Rega Ok Dai Abbiamo eliminato uno Intanto Abbiamo questo pronto Abbiamo la spada Laser Siamo al top Andiamo a grindare Un po' Siamo mega city C'è il boss C'è il boss Andiamo a uccidere il boss Ovviamente Occhio Ok Accogli Preventi Andiamo avanti Ecco il boss Ecco il boss Il boss Andiamo a prenderci la chiave E Andiamo a prenderci la chiave E E A Andiamo a prenderci la chiave Mi hanno ucciso Ma ragano Ma porca miseria Ritorna alla lobby C'eravamo quasi fatta Anzi siamo arrivati 50 Non è che siamo arrivati benissimo Però balliamo Allora La classifica è arrivata Megamobilità Crew di forte Proviamo a vedere se riusciamo a fare qualche squadra No annulliamo Ragazzi Noi ci vediamo Al prossimo video Eccoci qui Adesso abbiamo una schermata tutta grande Iscrivetevi al canale Attivando la campanellina E noi ci vediamo al prossimo video Tato 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 DJ Tato 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 in